Legambiente torna anche quest'anno in Calabria con Puliamo il Mondo, la campagna che costituisce l'edizione italiana di Clean Up the World, il più grande appuntamento internazionale di volontariato ambientale che coinvolge ogni anno 60.000 volontari in tutta Italia e milioni di persone in circa 120 paesi. In Calabria si terrà l'evento che darà il via all'intera campagna nazionale come riconoscimento del grande lavoro svolto negli anni dai volontari del circolo di Legambiente Serre Cosentine. La campagna di Legambiente è incentrata sulla raccolta degli pneumatici fuori uso e vuole porre l'attenzione sul problema combattendo l'illegalità diffusa costituita proprio dagli abbandoni di pneumatici sausi sia in aree pubbliche che private, dichiara Anna Parretta, presidente di Legambiente Calabria. I pneumatici fuori uso sono infatti considerati rifiuti e se abbandonati costituiscono un grande problema ambientale, fonte di pericolo anche per la salute umana, mentre se correttamente smaltiti attraverso impianti di recupero e quindi riciclati possono trasformarsi in una preziosa materia prima che può essere utilizzata per produrre vari materiali.